Ogni volta che si fa uno scavo archeologico all'interno di una delle città che hanno una lunga storia come Rimini, è un po' come quando si accedere alle sorprese che emergono quando si va a cercare l'etimo di una parola e quindi io credo che sia l'occasione del cantiere del Teatro Galli abbia permesso agli studiosi che sono appunto degli investigatori di capire i resti e la stratificazione di questo straordinario carotaggio della storia e per cui è che e conoscere meglio tutto quello che si è sedimentato nei secoli vuol dire anche capire meglio appunto il luogo in cui ci troviamo, in cui abitiamo e l'Italia è fatta nella ricchezza storica che ha proprio di tanti punti a capo che le epoche hanno visto e quindi avere la possibilità di fare uno scavo chirurgico in questo caso per cui noi dobbiamo richiudere ma abbiamo però avuto la possibilità anche di comprendere tutto quello che è stato ma anche di farci venire un'idea di come rendere fruibile quello scavo per cui sotto la platea del Teatro Galli ci saranno delle sale museali che permetteranno la visione diretta di alcuni strati di questi ritrovamenti. Grazie a tutti!